Quasi la sicosa è buona, quindi andiamo a provarlo. Faisang de chianto. We always stay and shop with a barman. It's always the same story. Screaming. So authentic. È bilanciato giusto, morbido. Mangierai 50. Sì, Francesco riesce a mangiare 50. Io solitamente a colazione iniziono un goccio di affè, poi mangio, e poi finisco il cappè, quando è finito tutto il dolce. La bella vita. La bella vita. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Good morning. Good morning. Privet. Yonapot. Yonapot Kivanok. Ciao. Andatia. Allora, ora sono con il mio buon amico Francesco. Siamo davanti ad una fantastica pasticceria, si chiama? Da Giorgio. From 1972. 1972. Una delle pasticcerie più buone di Firenze, se non la più buona. Wow. Siamo in zona Soffiano, un po' fuori Firenze. Sempre Firenze, ma non nel centro storico. Un posto dove vengono solamente i locali e poi i turisti. Perfetto, buonissimo. Le paste più buone, le brioche più buone. Buonissime, buone, 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 buone. Ci vengo da quando sono piccolo. Quindi Francesco conosce questo posto molto bene. Sì. Così così è buona. Quindi andiamo a provarlo. Ci vediamo. È molto bellissimo. È molto antico, veramente traduzione. È molto ricordata. Ha un po' come il vantaggio. Sì, vi ho lasciato un po' di lì. Un caffè e un macchiato, grazie. They always stay and shut with the bar down. It's always the same story, screaming. It's so authentic, no? Come via. Cameriere. Cameriere Francesco sta andando fuori. Questo è solo per me, la Sonia non mangia. No! Buongiorno. Almeno vedi solo la maglia, briocha con la crema chantilly. Salute! Poi un eclair al pistacchio. Non vedo l'ora di provarlo. Io solitamente a colazione inizio un goccio di affè, poi mangio e poi finisco il cappella. Quando è finito tutto il dolce. Wow, la bella vita. Drop! Oddio! Molto cremoso. È come il pistacchio che smelta nel tuo cuore. Come questo per dire. Incredibile. Incredibile? È troppo dolce? È bilanciato, giusto, morbido. Tremoso. Buonissimo. Mangerei 50. Buonissimo. Francesco riesce a mangiare 50. Allora, ora provo questo. Come con il netto. Così. Questo lo vuoi? Sì. Allora. Certamente sì. No, perché è buono, volevo finirlo io. Dopo andiamo sul salato. Puoi prendere tutto quello che vuoi. Devi provare questo, buonissimo. Com'è? Molto cremoso. È molto bilanciato. Questo è un posto molto buono perché vengono solamente i locali. Il posto secondo me è il migliore dove fare colazione a Firenze. Quindi se siete a Firenze per qualche giorno in più e non vi fermate solo al centro e venite. È buonissimo. Al pistacchio. Andando. In ogni Impacto sono stato toothometrico. Molto non devono uzuno. Non si ha visto. In las rosso ogni pleased e l'utilizzata anche il t Motherengla Sì. Normalmente. E' buonissimo. È buonissimo. Ciao sia yellow. In Chinesi. La cosa nonカ'? Delеро. È buonissimo. È buonissimo. Mole atmosfera. Che proprio pestera? defenders! Si, da dormino. È buonissimo. La colazione in Italia è dolce, la mattina nessuno mangia salato, ora non è colazione ora perché è tardi, molto tardi, perché la Sonia si è svegliata tardi, io mi sono svegliata tardi, no, non è colpa mia, è colpa della Sonia, perché io sono sempre in orario, sempre in orario, vero? Ok, eh, Francesco qualche volta parla l'inglese, qualche volta parla l'italiano, non capisco mai, perché se parlo in italiano mi imbarazzo di più invece in inglese, siccome nessuno non capisce perché in tante dall'italiano nessuno non capisce l'ang Laksh, però non parlano tutto male qu'è? Lei fa se parla in Italia perché non capisce l'inglese, non capisce l'ang Littorio perché anche qui in Italia non capisce l'ang Littorio, in su banks non capisce l'ang Rettung di più, per esempio, quando diciamo con Ica, perché l'ang Littorio si sta chiedendo l'ang Littorio si può parlare, però così come vanno a dire l'ang Littorio, ma sono termini di Spassi, che è il bar centrale famoso de storie, nel Fiorentino per eccellenza, in piazza della Repubblica... Lì parleremo italiano perché molte persone sono turisti, invece qua, essendo quasi tutti italiani, mi imbarazzo a parlare. Va bene, non c'è problema, anche io mi sento un po' imbarazzata. Signorina, tutto a posto? Sì, tutto a posto, grazie a me, sei molto gentile. Prego, grazie, voglio una mancia. Ho i miei occhiai, cinesi. Heianchen, come gli occhiali. Heianchen, heianchen. Heianchen, heianchen. Dolce e tientien. Tientia. 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 Nì. Non dobbiamo aspettare perché ora è un po' affolato qui. Abbiamo a fare due, a attendere, abbiamo a fare due, abbiamo a fare due, abbiamo a fare due. Abbiamo a fare due. Io ho già chiesto. È un po' di vestia. Sì? È vero? Mhm. Perché è scattare? No. No? Come? buon appetito abbiamo un panino con gamberi pomodoro e rucola molto croccante e oleosa questo è un hamburger con salmone salsa di avocado e comandoli anche rucola con i semi di salsa si taglia a metà è molto saporito buonissimo buonissimo a Firenze non c'è male quindi questo mi porta a male i posti più lontani non solamente in centro perché mangiate meglio, bevete meglio, le persone sono più belle sì no anche il prezzo è buono sì che se ne vede, i più oltre, i più oltre saopong pai la stella mi piace il pane questo è meglio che quanto mi esperto quando si mangia, è un paradisi io devo gustare gli occhi premuta d'arancia. premuta d'arancia perché è caldo. grazie a francesco. è la prima volta che veniva qua, vero? e quant'è che vi ha a Firenze? 5 anni. e non eri mai venuta dal Giorgio? no ma perché? venite dal Giorgio a tutti i taiwanesi. perfetto! vi aspettiamo